Gestire e connettere aree professionali protette parchi e habitat attraverso fiumi, foreste e aree agricole per creare vere e proprie reti di strutture naturali collegate fra loro e incrementarne la resilienza. È uno degli obiettivi di sviluppo del millennio definiti dall'ONU quasi vent'anni fa e ripresi nel 2017 nella Carta di Bologna per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile. A quegli obiettivi la città metropolitana di Torino ha dedicato un seminario promosso in occasione della Giornata Mondiale delle Metropoli. Il World Metropolitan Day è nato nel 2015 dalla Carta di Montreal per valorizzare le buone pratiche delle aree metropolitane del mondo in relazione agli obiettivi del millennio. All'incontro hanno partecipato numerosi esperti e operatori ambientali, sindaci e responsabili di parchi e aree protette che hanno portato il loro contributo di idee. I sindaci dei territori inseriti all'interno delle aree protette metropolitane hanno ribadito l'importanza, per le comunità che rappresentano, della tutela dei valori ambientali ed ecosistemici e della valorizzazione in termini di turismo e sviluppo sostenibile dei rispettivi territori protetti, in attuazione di quanto prevedono le normative europee, nazionali e regionali, in tema di conservazione della biodiversità nei siti della Rete Natura 2000 e promozione dei parchi e delle riserve naturali. L'incontro del 7 ottobre è stato importante per verificare l'ampio ventaglio di enti, istituzioni, associazioni, professionisti e volontari che a vario titolo collaborano da anni con l'amministrazione della città metropolitana. Politecnico Università di Torino Arpa ed Enea, con cui sono attivate collaborazioni in tema di pianificazione territoriale ed attuazione delle reti ecologiche ed infrastrutture verdi. Parco nazionale del Gran Paradiso e parchi regionali del Po, delle residenze reali e delle Alpi Cozzie Per progetti di didattica e di gestione della fauna protetta come il lupo Ipla, per la pianificazione naturalistica delle aree protette metropolitane, Montre Tredenti e Monte San Giorgio Consorzio forestale Alta Valle Susa, per la pianificazione delle risorse forestali delle aree protette e la gestione della riserva del Lago Borello di Ulx Gruppo piemontese di studi ornitologici per il monitoraggio e l'ineannellamento della vifauna delle zone speciali di conservazione dei laghi di Candia e di Casellette Pronatura per il ripristino dei sentieri della riserva dei Monti Pelati Comitato della resistenza del Col del Lis per la gestione dell'ecomuseo e della sede del Parco Monimo Ed infine le guardie ecologiche volontarie che, come dipendenti onorari dell'ente, partecipano attivamente alle attività di vigilanza, didattiche e manutenzione E dal 2020 vedranno un considerevole incremento numerico grazie al corso ultimato nel 2019 Le otto aree protette della città metropolitana di Torino e i 21 siti della Rete Natura 2000 in gestione all'ente Formano una grande area, diffusa sul territorio, dove gli ambienti, la fauna e la flora sono tutelati Anche nell'ottica di educare i cittadini alla consapevolezza del proprio ambiente Grazie a tutti